Con un fatturato di circa 2 miliardi e 400 milioni di euro, di cui 500 milioni sono in esportazioni, il settore agroalimentare rappresenta la vera locomotiva dell'economia regionale, perché in controtendenza rispetto al trend imposto dalla crisi economica nazionale e internazionale ad altri settori. Anche di questo si è discusso nel primo meeting dell'agroalimentare d'Abruzzo organizzato dal Polo di Innovazione Agire, il primo ad essere creato nella nostra regione, che vanta aziende importantissime della pasta, del vino, dell'olio e dei prodotti gastronomici. L'incontro è stato l'occasione anche per esporre un report sul settore curato dall'Università di Teramo e dall'INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, in collaborazione con il Cresa, che ha sottolineato proprio la crescita delle eccellenze del Made in Abruzzo e la necessità di sostenere attraverso una programmazione comune l'aggregazione di piccole e grandi aziende. Gli sviluppi del Polo di Innovazione sono in corso, il Polo di Innovazione serve per aggregare le aziende, per fare progetti di cooperazione che poi sfoceranno in una serie di attività, sia nazionali che internazionali, rivolte allo sviluppo delle aziende del territorio abruzzese. Non soltanto questo perché, tra l'altro, tanti bandi, tante possibilità di avere accesso a finanziamenti pubblici passano attraverso i poli. Oramai la cultura dell'appartenenza al Polo è diventata fondamentale e l'appartenenza stessa è obbligatoria per accedere a alcuni bandi.